Elisa Isoardi e gli esperimenti in cucina con la doppia cottura Voglio fare questo esperimento stasera alla minestra in due cotture Ma nessuno mi deve dire niente perché ormai io mi sono fissata che le cuociono in due tempi, va bene? Allora io qua ho messo ceci, fagioli rossi e farro Dall'altra parte invece metto tavoletti che li avevo nel frigo Carote, cipolla, patate, sedano rapa Vedi qua sedano rapa e poi ne frullo metà e poi vediamo come viene, ci vediamo dopo Allora pane tostato base, guarda che bello Mi sa che è venuta bene Buon appetito Che dite, la proviamo o non la proviamo questa ricetta?